Per il 2017 dobbiamo proporci un grande rilancio anche sul piano della comunicazione del turismo. Definire con la regione dell'Umbria la utilizzazione dell'ex ospedale come casa della salute e come centralizzazione degli uffici comunali, almeno per quello che riguarda i settori prevalenti. Poi abbiamo due grandi temi, la questione multiservizi, società e liquidazione che ovviamente impatta sul bilancio in maniera anche abbastanza significativa, il tema della discarica, quindi il tema rifiuti ambiente. Sono due questioni ovviamente che mi preoccupano perché hanno a che fare anche con una gestione del bilancio peraltro sempre più difficile nel corso di questi anni. Poi ovviamente abbiamo la strategia dell'area interna con gli altri comuni del comprensorio più Nocera, Valfabbrica e Pietralunga, strategia fondamentale nella quale noi siamo comune capofila e attraverso la quale riusciremo ad ottenere anche risorse importanti per questo territorio oltre che alcuni processi di innovazione particolarmente significativi. Poi è chiaro che dobbiamo spingere sempre molto sulla creazione di opportunità per nuove forme di impresa, per il lavoro che resta il grande tema, per la coesione sociale e l'inclusione sociale e anche sul versante dei servizi sociali vogliamo mantenere alto il livello delle prestazioni nel nostro impegno perché ovviamente la solidarietà e la difesa dei soggetti più deboli resta uno degli obiettivi fondamentali di questa amministrazione.